Questo programma vi è offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia. Buonasera, buonasera, ben ritrovati al nostro punto di luce. Buonasera e ben ritrovato a Don Roberto Ponti. Buonasera Adriana, buonasera a tutti. Allora questa sera parliamo di qualcosa che potrebbe tenerci compagnia per l'estate. Sarebbe una buona compagnia. Una compagnia importante perché come vedete dal titolo ritorniamo perché ovviamente è un tema che non si esaurisce mai sulla Bibbia e sulla possibilità di rendere la Bibbia un compagno di strada. Diciamo affrontare le storie che ho definito sagge e meravigliose che sono contenute in questa biblioteca che è la Bibbia e che possono aiutarci a fare un cammino importante, decisivo, determinante di comprensione di noi stessi e di quello che ci circonda. Quindi leggere la Bibbia è veramente un dono che forse anche durante l'estate potrebbe ricominciare. Diciamo un libro che spesso è chiuso nelle nostre case. Che in realtà però è il libro dei libri. È il libro dei libri, è il libro che va aperto, è il libro che va letto, è il libro che va meditato, è il libro che va pregato, è il libro che va compreso a tanti livelli. Infatti noi parliamo di libri solitamente nella seconda parte del nostro programma, però in questo caso partiamo dall'inizio proprio perché è il libro dei libri, quindi non è una lettura qualsiasi quella di cui vi parliamo adesso. E partiamo anche in questo caso con le opere d'arte. Le opere d'arte che ci insegnano cose che accadevano già secoli fa in altri contesti. Diciamo che noi forse in Italia nel contesto cattolico siamo un po' in ritardo sulla lettura della Bibbia, sulla lettura del testo sacro perché storicamente il testo era un po' lasciato lontano o appannaggio di alcune categorie come i preti ad esempio. Sì, e non della famiglia tu dici, e non una lettura da fare in famiglia. Noi abbiamo l'onore e la gioia di dire che Don Alberione, il fondatore della famiglia Paulina, il beato Giacomo Alberione, è stato quello che forse in Italia ha contribuito di più alla diffusione della Bibbia e all'invito, fatto a tutte le categorie, alla famiglia, ai bambini, ai ragazzi, ai giovani, di leggere la Bibbia e l'aveva preparata, l'ha preparata in tanti modi fino ad arrivare agli ultimi, diciamo ancora noi cerchiamo con le edizioni San Paolo, di produrre delle Bibbie che siano utili per una lettura che è un approfondimento utile alla vita di fede ma alla vita in generale. Infatti quello appunto del nonno, del genitore, del bambino, quindi le tre generazioni. Sì, allora possiamo vedere il primo quadro che è di una pittrice inglese, di un artista inglese soprattutto di quadri religiosi, lei illustra tre generazioni. No, sì, nonni, il genitore non c'è anche il bebè. Tre generazioni che ascoltano la lettura della Bibbia in famiglia, nonni, genitori, due bambini a tavola e anche un bimbo che è ancora nella culla di vimmini e ascoltano la lettura, ecco una cosa che forse da noi non è entrata come una realtà che è importante. Sì, una metodologia più anglosassone forse. Diciamo dell'ambito protestante e poi ancora di più la Bibbia ebraica, cioè quello che è soltanto l'Antico Testamento per le famiglie di origine ebraica. Sì, lì c'è proprio un'abitudine consolidata nella famiglia. È vero, noi cattolici ce l'abbiamo meno. Ce l'abbiamo meno e forse dobbiamo abituarci a mettere la Bibbia al centro. Che poi in realtà se vai negli alberghi c'è la Bibbia negli alberghi, questa è una contraddizione. Non è l'edizione che è più conforme alle regole cattoliche ma va bene, è sempre parola di Dio e se troviamo il tempo magari passando in un albergo dove c'è presente il testo biblico possiamo leggere qualche pagina. Un altro quadro. Un altro quadro invece diciamo la lettura comunitaria, qui un autore, forse non abbiamo citato l'autore di prima, era Maria Spisbury. L'autore di questo quadro è invece un autore gallese che si chiama Ivan Walters, Ivan Jones Walters, che rappresenta sua mamma che legge la Bibbia. Ah, e questa è la sua mamma? E' proprio la sua mamma che legge la Bibbia e lui è, come dire, anche lui è un autore che ha messo in evidenza situazioni di, diciamo, di momenti sacri, di momenti di sacralità, tra cui anche la sua mamma che legge la Bibbia. Quindi una lettura individuale ma molto attenta, molto profonda come vediamo anche di una persona anziana avanti negli anni ma che non lascia l'attenzione per il testo sacro. E comunque è individuale ma è la propria mamma, quindi in ogni caso è individuale ma familiare perché la lettura della madre in qualche modo poi passa, passa anche al figlio. Ecco, anche Papa Francesco ha parlato e parla spesso della necessità di leggere la Bibbia. Molte volte poi ha messo in particolare in competizione tutta l'attenzione che noi abbiamo per questo strumento quasi particolare, così invasivo che è lo smartphone, il cellulare e la Bibbia. Perché più volte ha detto se aprissimo la Bibbia, la Bibbia che è in tutti i formati, come apriamo e vediamo lo schermo del cellulare, allora le cose potrebbero cambiare. Io direi di lasciare spazio a questo spot. Sì, vediamolo. Ciao 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 musica ho un'idea mettere la Bibbia in un'app del telefonino ce ne è tantissime c'è una grande scelta di applicazioni che permettono di leggere la Bibbia addirittura di ordinarla per fare una lettura continua tutti i giorni oppure di ricevere ogni giorno quella citazione che può essere utile per te io non lo sapevo in tutte le lingue addirittura c'è possibile di fare poi anche lo studio tra il greco e l'italiano quello chiaramente per le persone diverse edizioni della Bibbia quindi diverse traduzioni messe a confronto per capire meglio il testo c'è veramente l'imbarazzo della scelta ma dobbiamo decidere di avere queste applicazioni e poi utilizzarle perché aprire la Bibbia oggi non significa necessariamente aprire la Bibbia stampata su carta anche se è il modo più bello è più semplice si è il modo più tradizionale però ormai noi tutti siamo abituati almeno io a leggere i libri sul Kobo, sul Kindle quelli elettronici è il libro di carta come poi la Bibbia non è proprio due pagine pesa anche quindi secondo me una facilitazione potrebbe essere quella di inserirlo in maniera c'è la possibilità c'è la possibilità non è la scusa per non leggere ecco esatto Adriana adesso esatto posso fare oltretutto sono delle applicazioni gratuiti non c'è nulla da pagare perché chi ha l'iPhone li trova sull'Apple Store oppure li trova sul Google chi ha il Samsung e quindi si possono trovare gratuitamente è vero invece però che la lettura della Bibbia comporta degli scogli da superare nel senso che non è così semplice non è un libro qualsiasi perché ha degli aspetti che devono essere un po' decifrati e bisogna entrare con il piede giusto diciamo con lo sguardo giusto quindi direi di ascoltare i consigli di un vescovo come Monsignor Francesco Lambiasi vescovo di Rimini che ha preparato dei video in cui dice come anche lui ha avuto questa esperienza un po' di all'inizio di difficoltà che poi ha superato e che tutti possiamo superare con qualche strumento con qualche aiuto qualche consiglio qualche aiuto che ci dà lui allora sentiamolo la Bibbia può presentarsi come un libro respingente eppure invitante certo la Bibbia appare come un libro che ti respinge per tanti aspetti pensiamo ad alcune pagine terribilmente noiose del libro del Levitico il terzo libro del Pentateuco dei primi cinque libri della Bibbia un libro con tutte le sue prescrizioni così minute pignole come addirittura la biancheria intima del sommo sacerdote oppure il libro dei numeri che sono pagine e pagine di anagrafi di personaggi ormai definitivamente scomparsi non solo credenti ma anche non credenti non saprebbero rinunciare a queste scritture che a volte possono sembrare come un labirinto inaccessibile a volte come un castello fatato ma se si riesce a trovare la password la chiave di accesso allora anche pagine a prima vista più ostiche e indigeste cominciano a vibrare di luci e di suoni intriganti del resto come fare a meno dell'ardore di un libro come il Cantico dei Cantici o di un libro intramontabile come il libro dei Salmi o degli infuocati rotoli dei profeti cosa sarebbe la nostra vita senza il libro dell'Esodo o la storia di Gesù che idea potremmo farci di Dio se ci mancasse la contemplazione di Giovanni l'Evangelista o se l'umanità venisse improvvisamente privata di tutte le copie dei lettri di Paolo ecco la Bibbia è così un libro che merita di essere aperto o magari anche riaperto riaperto perché appunto magari l'abbiamo letto male magari lo conosciamo però come diceva Monsignor Lambiasi ci vuole quella password per entrare lui ha fatto un elenco di libri che sono molto famosi e che sono forse la porta di accesso giusta per ricominciare e riprendere la lettura della Bibbia come alcuni libri profetici oppure come il libro dell'Esodo sì perché serve un inizio una guida perché uno che non ha la guida parte conviene cominciare da quelle parti che sono più discorsive più storiche che raccontano qualcosa e quindi ci aiutano a entrare pian piano nel discorso biblico cioè non partire dall'inizio diciamo si può partire dall'inizio perché il libro della Genesi lo conosciamo tutti la creazione tutto il resto però non bloccarsi non bloccarsi quando troviamo qualche ostacolo magari saltarlo semplicemente andare avanti e poi magari si riprende perché interessano anche quei passaggi che sono più difficili io consiglio di iniziare a leggere o dal Vangelo di Marco che è molto semplice molto immediato e permette di come dire di entrare subito nel pieno dell'argomento oppure anche dalle lettere di Paolo magari anche non so la lettera ai Corinzi può essere interessante perché affronta dei problemi che sono sempre validi quindi tu partiresti dal Nuovo Testamento io partirei dal Nuovo Testamento però se qualcuno è interessato ad esempio a riprendere la storia di Mosè io partirei da lì allora magari l'esodo può andare bene l'importante è avere una buona Bibbia o un'applicazione giusta per fare la ricerca adesso questa la voglio scaricare pure io adesso però sentiamo altri consigli perché hai scelto anche un altro esegeta sì c'è Don Fabrizio Ficco che ha partecipato anche alla preparazione alla traduzione alla redazione di questa nuova Bibbia che si chiama la Bibbia scrutate le scritture e ci dà anche alcune indicazioni certo per una lettura e un'interpretazione che è più interessante perché usufruisce di nuove possibilità soprattutto questa Bibbia è ricca di note o meglio di rimandi al margine che permette di capire la scrittura con la scrittura cioè ci sono tantissimi rimandi ad esempio nel libro dei salmi agli altri testi dove quei salmi sono citati in modo che si riesca a capire l'uso che se n'è fatto e anche il contesto per una comprensione più approfondita proviamo a sentire sentiamolo allora la scrittura è un tesoro inesauribile i rabbini dicevano che ogni parola ha 70 volti questo significa che un testo non si esaurisce fin tanto che non si colgono tutte le sfaccettature per i padri della chiesa il senso letterale contiene infiniti significati spirituali diceva origene proprio perché è parola di Dio tra l'altro Girolamo pensava che la scrittura cresce con colui che la legge nel senso che la lettura delle scritture matura il fedele ma la persona che è cresciuta con la parola ne coglie significati sempre più profondi questo è un altro consiglio eh sì ci sono tanti livelli di comprensione e ognuno può affrontare quello che gli è più utile in quel momento cioè si può fare in certe fasi della vita tu dici c'è un si può fare una lettura più storica cioè capire il contesto dell'avvenimento anche situarlo nel contesto storico in cui è accaduto si può fare una lettura più spirituale cioè cogliere quel significato che tocca la mia spiritualità il mio voler vivere con quell'esempio che mi è davanti o addirittura c'è una lettura allegorica cioè si dice qualcosa che rimanda ad altro e quindi bisogna fare dei collegamenti e allora ad esempio nella moltiplicazione del pane di Gesù poi si richiama l'eucarestia quindi la partecipazione alla messa quello che significa anche la carità verso chi ha bisogno ecco ci sono tanti collegamenti che la Bibbia la scrittura permette e soltanto se la leggiamo questo accade se la lasciamo chiusa se non apriamo l'applicazione se non apriamo la Bibbia ecco questo non può accadere quindi l'invito è apriamo non lasciamo la Bibbia chiusa usufruiamo magari di qualche momento più libero durante l'estate però anche di qualche di qualche aiuto come dici poi vedremo nei consigli ecco esatto quello che volevo dire cerchiamo di avere anche qualche qualche tutorial come dico io per imparare meglio a leggerla o a rileggerla allora ci fermiamo qualche istante di linea la regia e poi vediamo qualche strumento per leggerla meglio e più approfonditamente tra poco allora rieccoci stiamo parlando del libro dei libri che è la Bibbia vediamo qualche consiglio per imparare a leggerlo meglio diciamo la bibliografia sulla Bibbia è enorme immensa e ci sono tanti punti per entrare nel testo biblico una è quella di affidarsi a chi è capace di vivere la lezione divina che è una lettura che diventa preghiera e anche modalità di avere delle informazioni per la propria vita e una grande esperta di questo ambito cioè della lezione divina è madre Anna Maria Canopi è badessa dell'isola di San Giulio che è mancata due anni fa ma che continua ad avere una ricchezza di scritti che sono ancora utili oggi e c'è una novità che è stata ripresa dalle sue consorelle editata dalla San Paolo la loro voce percorre la terra l'exio divina sugli atti degli apostoli quindi il libro degli atti degli apostoli è analizzato è come dire si è ripercorso tutto con dei commenti che aiutano la comprensione quindi un modo per leggere la Bibbia è prendere un libro di questo genere esatto e tenerlo parallelo in modo che ci aiuti a interpretare meglio e c'è anche l'interpretazione diciamo un'interpretazione sapiente ricca di significati che permette poi di farli propri e magari di andare avanti su altri libri con lo stesso metodo però madre Anna Maria Canopi è una ricchezza che mi piacerebbe riascoltare ancora i suoi occhi parlano molto e ci fanno capire che cosa significa essere pieni della lettura e dell'ascolto della parola di Dio Bisognerebbe davvero aiutare la gente anche a fermarsi a pensare a fare silenzio ad adorare a contemplare e che non sono più abituati a questo e c'è più che riunioni parole corsi tutte queste per informare bisogna invece formare formare le coscienze queste si formano soprattutto nella meditazione quindi ci vuole il silenzio nella preghiera nell'adorazione nello stare alla presenza del Signore a cuore a cuore questo c'è più preghiera più silenzio più preghiera più adorazione e quindi una maggiore capacità di stare alla presenza di Dio di camminare alla presenza di Dio di vivere alla presenza di Dio è una chiave di lettura anche questa è una grande chiave di lettura diciamo complessiva della vita ma poi di approccio alla parola di Dio quindi il libro sugli atti degli apostoli e la lezione divina è veramente una possibilità di fare esperienza di lettura della Bibbia accompagnati da un'esperta che si quello che dicevo un tutorial che ci aiuti a leggere meglio a comprendere meglio poi hai anche un'altra proposta un'altra proposta è più generica ma ugualmente interessante il titolo è il piccolo coach della Bibbia l'autore è un grande esperto di lezione divina di Bibbia un biblista Hansen Grün l'editore questa volta è Paoline e si tratta proprio di mettere in fila tante risposte alle domande di come approcciarsi al testo biblico a cominciare dalla varietà di traduzioni che esistono a cominciare poi da quei dati tecnici che ci servono per capire dove è posizionato un libro dove lo ritroverò e poi per andare più a quello che è molto importante è capire i vari tipi di lettura e di interpretazione teologica ecclesiale psicologica da teologia della liberazione un'interpretazione personale e poi ci sono proprio dei modi per leggere la Bibbia individualmente o anche in gruppo che era quello da cui siamo partiti il fatto di leggerla anche in famiglia questo è veramente un piccolo manuale per rispondere ad alcune domande previe alla lettura della Bibbia in modo che possiamo affrontarla in modo sempre più produttivo fruttuoso più consapevole anche esatto perché non sia una lettura che passa solo attraverso gli occhi ma che entri dentro la nostra anima ovviamente anche la frase di chiusura che hai scelto è legata alla Bibbia eh sì perché bisogna ci sono tante frasi che portano un po' allo stesso messaggio io ricordo anche quella di Don Alberione che diceva la Bibbia è la lettera di Dio per l'uomo di oggi quindi diceva tu non rifiuteresti di aprire e di leggere una lettera che tuo padre ti ha inviato allora fai la stessa cosa con la Bibbia ah beh certo facendo questo paragone per forza però anche Papa Francesco ci dice più o meno la stessa cosa con un'altra frase che ci dice la Bibbia è il luogo in cui Dio dà l'appuntamento dà appuntamento all'uomo e noi non possiamo non presentarci a un appuntamento ecco se c'è un appuntamento con una persona importante noi non possiamo rifiutare questo appuntamento allora apriamo la Bibbia leggiamola diventiamo familiari della parola di Dio della Sacra Scrittura questo è un altro consiglio un invito che ci arriva dal Papa grazie allora Don Roberto grazie a voi che ci avete seguito come al solito ci ritroviamo tra una settimana arrivederci buona serata buona serata questo programma vi è stato offerto da Famiglia Cristiana il settimanale della famiglia grazie a tutti